Bene ragazzi, siamo Ye-Day! Oggi... Ah, dici tu? Ma lo posso? Dopo tanto, mi hanno richiesto, ma la 5Shot non la fate più? E allora? Siccome era troppo facile con gli altri... Oggi due calciatori di qualità Grazie ragazzi dell'invito innanzitutto Grazie a voi Mi hanno detto che voi siete due calciatori di qualità Quindi sarà un bel duello, speriamo che vi piace anche a loro Ehi, sei un gran portiere oggi in porta però Ho visto, lo conosco bene, l'ho studiato Io faccio il mio, io faccio il mio Ricordati che sei il nostro portiere Nooo Partiamo male Bene, ci sarà sempre spazio per tenere la parte di fondo Nooo E tre nel video, dai! Turno di Luca e deve fare bene il portiere Vai Luca! Vai tutti! Vai! Vediamo come va Vediamo come parte Vamooo È già fuori, già fuori, già fuori Wow! Dai, bene! Bene! Ricciati un po' Il contratto futbolista è sempre valido Ok, ok Torna, calmo, calmo Anche l'altra, anche l'altra Anche l'altra Anche l'altra Anche l'altra Bello! Sbaccalo! Bello, bello! Buono, buono, buono! Ciao Fene, mi sei piaciuto! Bravo Lu, bravo! Siamo pronti, è la prima volta per me, sono un po' emozionato ma non mi farò battere le emozioni, almeno spero! Andiamo! Carico eh! Buono, spiazzato! Sbaccato! Occhio che è uscito bene, è uscito bene! Uhhh! L'ha estragliato, l'ha estragliato, l'ha estragliato! L'ha estragliato! L'ha estragliato! Non farti prendere in giro, non farti prendere in giro! Guarda ti stai spottendo Fede! Vai Gun così! Mattonella importante! Ah! Bella! Gol! Golazzo! Quattro su cinque! Quattro su cinque! Tre su cinque! Tre su cinque! Prevedevo il cross, Andre! Prevedevo il cross! Per fare cinque su cinque sarebbe più gente di difficoltà! Attenzione! Bravo! Quattro a tre! Tosta, tocca a me! Dai Andre! Speriamo che sbagliati a rigore! Ragazzi, sbagliati a rigore! Quattro a tre! Dai Andre! Hai due bufi, hai due bufi a chiudere! Andre sono con te! Bravo! Buono! Spiazzato! Dai! Tuo! Tuo! Buono! Buono due! Buono! Dai! Mattonella! Bene! Questo è un regalino per te! In mezzo! Dai! Carico! Oh no! Ok! Oh no! Dai Andre! Bello il controllo! È una bella palla! Questa è una bella palla! Tira da fuori! Oh! 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 Non farmi quell'errore! 5-4! Bene così! Vantaggio leggerissimo! Harry! Mi raccomando! Non farti incantare dal fene! Vai! Secco! Via! Vai! Sì! Regalo! 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 Scartalo! Vai Gaterra! Buono! Buono così! Va bene! Va bene! Zero su tre! Perfetto! Buono! Buono! Va bene! Ce l'hai in mano! Duro! Duro! Sì! Buono! Vai! C'è il lancio! Teniamo il 5 pari! Teniamo il 5 pari! Mettila! Mettila! Sì! Vamo! Ci siamo! Doloroso! Va bene! Secondo giro! Come prima! 0-0! Siamo pari! Bella sfida! Mamma mia! Fene è vicinissimo! Peccato! Peccato! Dai Pele! Chiudi il lancio! Va bene! Fai che stanco di correre! Non riesci neanche più a arrivare al pallone! Dai Lu! Bello! Che cazzo! Bello! Bello! Bellissimo! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Non dovrei fare un applauso ma! Era un applauso! 3 su 5 di nuovo! Può fare il quarto! Va bene! Va bene! 3 su 5 ancora! Sì! Ragazzi! 8 a 5! Sempre più 3! Speriamo che Gunn non faccia come prima! Se no! Lo promette! Goi! Cifene ce l'hai già! Vai Fene vai Fene! Mieva! Madonna! Questo brucia! Dai Fene! Dai Fene! Buono! Peccato! Tieni a concentrazione! Dice di no Fene! Dice di no! No! Un tiro! Un tiro! Ultimo tiro! Bello lo stop! Dai! Dai! Buono! Devo fare i complimenti perché era grandioso sta parata! Mi ha letto bene! Veramente è forte! E' super fedeliato! Se vuoi! Il posto libero per Footwork ma anche per l'Inter eh! Addirittura! Ah giù! Ci penso! Ci penso eh! Ragazzi adesso è il mio turno! Gunter ha risposto ancora a modo! Siamo in pareggio e devo fare almeno 3 gol su 5! Bene! Devi parare sto rigore dai! Il rigore mentalmente è importante! Sì! Assolutamente! È fondamentale! Eeeh! È un bel gara! Va capita! Bravo Fene qua! Ottimo cintura! Ottimo cintura! Ottimo cintura! Mi sta motivando! Sì! Bene così! Bene così per noi va bene! Vai che ce l'hai! Un gran controllo! Buono! Il tiro! Buono! Sei! Ma questo non è gol! Bella attraversa! Bella attraversa! Ho visto la porta a muoversi! 10 a 8 ragazzi! E' guerra fino all'ultimo! Fino all'ultimo! Vai Henry! 10 a 8! Sempre due faccio! Bello! Vai vai! Gol! Gol! Mettimi anche questa! Duro! E pam! Bello! Centrale! Non far ipnotizzare! Ti stai ipnotizzando! Oh Fene provoca! Rischia! Rischia! Vai! Va bene! Buono! Mettila giù! Mettila giù tranquillo! E duro! Buona sua riga! Bello! Troppo centrale! Perché vuole essere sicuro ragazzi! Ragazzi ancora uno! Risultato pessimo! Niente sento la pressione di questo risultato però! Meglio in uno che zero! Un urlo per Ragnar! Oh! Bravissimo! Ragazzi 10 a 9! Ultimo giro! C'è super equilibrato! Ma! No! Ha fatto due volte bene! Per noi non siete senza tre! Per lui invece vediamo! Lo! Deve sempre farlo stupido! Guarda! Balla! Bravo! Dai che è tua! Vai Luca! E' tua! E' tua! È malato! Fuori di un niente! E' tua! E' tua! E' tua! E' tua! E' tua! E' tua! E' il momento di cello i ragazzi! Sono molto teso! Fene continua a provocarmi! E' veramente un provocatore! Vedremo se cadono le sue provocazioni! Però non grida Fene eh! Però potrei gridare io! Prima del rigore per spaventarlo! Speriamo bene! È rincorsa lunghissima! È rincorsa lunghissima! No! 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 Eh! Non se l'aveva letta! Forza! Non ho parole perché è on fire oggi! È caldissimo! È caldissimo! Fene! Fene! Oh Dio che sta dentro questa! Bravo Gur! E' tua Fene! Oh niente! Questo giro è suo! Questo la devi sbagliare! Questa la devi sbagliare! Bene! 12 a 11! Tutto nelle mie mani! Tutto nelle vostre mani! Bravo va bravi! Riparabili! Questa è una palla importante! 5 palloni che pesano! Darò il meglio di me! Oh! Se non ne metti due! Avete perso! Non vorrei dirtelo! Oh Andre! Non vorrei fartela pesare! Almeno tre! Tre fuori intende eh! Buono! Ehi ai ai! E' tuo! E' tuo! Bloccalo! No! Mamma mia meno male! Vai! Para! Un altro Andre! Bene così! Almeno un altro Andre! Bene così! Bene così! Bene così! L'ultimo! Dai che non la controlla qua! Dai! Bello! Curva! Bello fuori! Bravo! 14-12! Mi piace tantissimo quando contro 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 contro! Bellissimo! E' il ritiro del giro! E' il ritiro del giro! E' sto qui! Dai! Vai che paura! Fene! 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 E' ultimo! Guarda come hai messo il portiere! Fene! Fene! Siamo stati sfortunati! No! Siete meritate! Avete fatto meglio come duo! bravi 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 sono andati forti e oggi nella giornata allora ragazzi onestamente la sconfitta è colpa mia perché ho fatto due tre volte uno su uno tu sei stato bravissimo però la pressione fa tanto è andato così giocare per ultimo non è stato facile bravi gli e lei ci rivedremo è un onore avervi sfidato e soprattutto avete il vostro portiere che però è stato veramente bravo anche con voi allora ragazzi siamo giunti al termine che battaglia vittoria sudata siete stati bravi tutti bravo bene bravo la migliore delle 5 shot la piuttosta estenuante bravi ragazzi alti ritmi scriveteci nei commenti chi volete come i prossimi due sfidanti della 5 shot challenge ragazzi complimenti siete stati bravissimi ammetto mia colpa la mia prestazione di oggi è stata scandalosa e ho affossato come Gunther se avessi fatto qualche gol in più se la saremmo giocata meglio però va così ci pago la cena non lo so ragazzi forse ho fatto tanti gol per il pallone li trovate sul loro sito vi lasciamo un link sotto al nostro canale guardatemi negli occhi siamo quasi a 100 mila iscritti cioè scusa iscriviti dai non siete ancora a 100 mila no dai che Gunther paga la cena alla prossima